Questo progetto affronta temi importanti in un divano, ma con una visione che non ci permette di guardare più indietro. Un divano di nuova generazione, anche con volumi avvolgenti e forme morbide, ha l'intenzione di eliminare gli stampi in poliuretano. Il divano è staccato da terra, ma quando uno si siede entra in rapporto con un'idea di una veste di strevo conforte. Ci sarà una struttura interna leggera che viene vestita calzata di questa fodera veramente abbondante, ma che mi sorprende fortemente con questa nuova visione di riconcepire tutte le imbottiture. Tre parole per descriverlo. Avvolgente, innovativo, estremamente comodo. Avvolgente perché c'è questa volontà di fare un prodotto che è gentile formalmente e non semplificato. Innovativo perché penso che c'è una nuova maniera reale di affrontare le sedute e i divani. Ed è estremamente comodo perché il divano ha una volontà della sorpresa quando arriva la seduta. E questo penso che è una cosa che mi piace a me in modo molto forte e anche a livello comportamentale.